muore bambabio bambabio e sei un bresciano no tu lo sei tu sei bresciano tutto male non hai pro ho la carta d'identità non c'è scritto che sei un bresciano per essere albanese è finta oddio un po' di veloci bianchi muoviti papà le pazza te ecco il passato di qui è un po' molto simpatico non si 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 amore non c'è non c'è non c'è non c'è ei buon c'è mai chi non abbiamo best da a sì grazie cazzo non so No, 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 no. ma c'è non vedo niente cos'è stato che che ho sentito basta more Spazzano scufoso! Ah! C'è una videocamera! Ah! Comincia! Eeeh! Eeeh! Siamo occupati! Oh! Ah! L'ho depreso! Si! Ma il xin! Sì! Stai giusto davanti a tutti per farlo a mettere la dietro! Ah ah ah! Buono! Un po' male! Siii! Uh! E' sempre merda! Non tira merda che l'xin si esita! e muore non so dove metterlo ma tu l'hai montato il ventilatore o no? ti sembra montato sei una cacca? fa caldo? l'abbiamo comprata e non lo usi? l'ho comprato fa niente ce l'abbiamo fatta via via scambi bravo amor guarda poi no guarda non c'è nessuno sono tutte accesso pausa pranzo quotidiano sto giocando all'ascondino amore ah il cucino sofficino e minchia si sofficino e cuciniamoli aia parola pulietta e bocca comincia aia aia oh gaga we safe in sto no no cd 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 grazie e mamma donna se cazzi passati in mangi non si so è stato molto non 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 basta no 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 per il suo lavoro non possiamo cazzo sono stata io scuola scuola spagnolo capo capo per quattro stupor cosa che non possiamo fare scuola guardando scuola questo è stato 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 ma tu non dirai faccio le mani ma che figo siamo salvi strano no strano, avrà cagato sulla sulla navicella qualche suo genito strano quattro per culo ma che cosa sono quelle robe lì queste prestazioni sono stato più frigo io no, io sono il G2 amore no si no, lei non gli ho il 2 ah allora beh ovvio io non sono figa quant'è 93 morti 1 1 enigmi non risolti che enigmi? vabbè cazzi tuoi abbiamo fatto 4 ok ciao gente scusate per l'interruzione delle patatine ma cazzo non eravamo fame vero amore? e tu non stai mangiando però beh io io ma cagare spegni va ti perso adesso che novità mamma mamma ciao 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 ciao